le carissimi signori oggi ci mette avanti la figura di zaccaria il riflesso umano e peccatore della vergine maria umana e senza peccato la risposta di maria e zaccaria di fronte all'annuncio dell'angelo apparentemente sono identiche come è possibile però dentro questo com'è possibile di zaccaria si intuisce il vereno del peccato originale in maria è un come possibile stupito stupore che nasce dall'innocenza di colei a quale è stata concepita senza peccato originale ed è l'atteggiamento che può accogliere il signore nella sua carne lo stupore innocente lo stupore di un bambino lo stupore di chi è senza la malizia che non vede dietro alle cose doppi fini che ha uno sguardo puro uno sguardo innocente uno sguardo che non è ferito dalla malizia lo sguardo di zaccaria è uno sguardo come quello tuo e come quello mio uno sguardo ferito da questa malizia uno sguardo sporcato uno sguardo che è frutto del peccato originale il demonio dice tu potrai diventare come dio eva lo crede ma nello stesso momento in cui eva e adam credono a questa menzogna del demonio senza soluzione di continuità nel medesimo momento si accorgono di essere nudi cioè l'aver creduto dalla menzogna di poter essere come dio sporca il loro sguardo ciò che prima non provocava in loro nessun problema la nudità quindi la debolezza quindi la loro identità loro così come erano chiamati ad essere una sola carne nella propria debolezza nei propri limiti il peccato di orgoglio di superbia il peccato che li porta a tagliare a disobbedire cioè disobbedire vuol dire chiuse l'orecchio alla parola di dio per aprirla alla menzogna del demonio ha aperto gli occhi in una maniera diversa nuova forma c'è una forma sporcata inquinata dall'orgoglio della superbia per questo l'annuncio dell'angelo a zaccaria svela tira fuori ciò che c'è nel cuore di zaccaria questo orgoglio questa superbia il rimanere muto è come l'accorgersi di essere nudi la superbia con la quale ha creduto di essere come dio e quella quale tu e dio costantemente crediamo di essere dio di fronte all'annuncio dell'immensità dell'amore di dio che dio va a fare cose immense impressionanti dentro di te svela la verità svela che tu non sei dio c'è un oiato c'è un gap enorme tra noi e dio che la superbia impedisce di accettare mentre maria rimane stupita diceva come possibile non conosco uomo che miracolo andrei a fare questa volta nella mia vita è come qua sono la tua serva fai me quello che hai detto perché io vivo da sua parola dipendo dalla tua parola vivo come dice il signore del di autoronomio di ogni parola che esce dalla tua bocca perché non c'è in maria il vereno del peccato originale della superbia che rende l'uomo incredulo che rende l'uomo duro di cuore incapace di accogliere e credere all'annuncio dell'amore di dio che è il mio padre il mio creatore e provvede alla mia vita con il meglio giorno dopo giorno miracolo dopo miracolo misericordia dopo misericordia la patina della superbia dell'orgoglio tiene dio fuori dalla nostra porta ci impedisce di aprire all'onipotenza di dio nella nostra vita maria fatta di terra sa che è una creatura vive nel paradiso vive laddove c'è una comunione perfetta tra la creatura e il creatore allora le sembra del tutto naturale che dio vada a operare in lei delle meraviglie che da lei non possono uscire che per lei sono impossibili lei sta al suo posto di creatura vive della parola di dio vive dei miracoli di dio ogni istante della sua vita per lei è un miracolo immenso accada quel che accada non ha malizia nel suo sguardo è aperta costantemente all'opera del padre in lei vive dell'opera del padre per questo potrà accogliere nel suo grembo l'opera più grande dio stesso che si fa carne e accoglie e crede alla parola dell'angelo che le dice nulla è impossibile a dio ma certo io vivo costantemente nell'impossibile che dio fa nella mia vita ma l'uomo superbo invece si sforza di essere dio illudendosi di poter compiere con le sue forze l'impossibile tutta l'educazione che riceviamo il film le canzoni supera te stesso più in alto più in alto più forte più verso dio più come dio supera dio la vita passata a battere i record a entrare nel ginnese dei primati questa è la nostra vita in combattimento costantemente con gli altri che anche vogliono battere i record tutti si credono dio e devono superare chi suppone di essere un dio migliore non ci possono essere troppi dei ne basta uno e quello che è successo a erode e erode è nel cuore di tutti noi per questo le guerre per questo le separazioni per questo le invidie per questo lotte per questo i combattimenti costanti che ci sono nella nostra vita a difendere le nostre posizioni a non farci fregare a guardare tutti gli altri con malizia e sospetto credendo di vedere dietro le parole dietro i gesti degli altri chissà quali complotti contro di noi i trame contro di noi questo complottismo costante che ci portiamo nel cuore e che ci fa guardare tutti gli altri storto come caino con invidia con gelosia con paura con timore perché nel fondo guardiamo a dio come un impostore come uno che cerca di toglierci il posto di dio che cerchiamo con tutte le forze di conquistarci dio è un nemico da abbattere non un padre che ci ama infinitamente e come creature come bambini buttarci tra le sue braccia no il contrario dobbiamo combatterlo e dobbiamo combattere gli altri dei che sono accanto a noi che ci insidiano siamo essi marito moglie figli compagni di lavoro chiunque insidia il nostro posto di primi di dio è tutto uno sforzo è tutta una proiezione tutto un progettare il futuro e quando arriva l'annuncio che ci dice ehi ehi non sei dio perché non ami non ami il nemico non ami chi ti fa del male dio è uno solo è quello che ti ama così come sei e ama ogni uomo infinitamente così com'è l'ha creato lui ha creato lui te ed è qui per compiere in te l'impossibile di fare di te una creazione nuova di fare di te di nuovo un figlio obbediente umile semplice che segue il cammino e la volontà di suo padre quando arriva l'annuncio di dio che dice tu non sei dio vengo io a fare le cose che tu non puoi fare è quello scatena la reazione di paura e di incredulità di chiusura di indurimento no 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 perché nel fondo io vivo fuori dal paradiso sono nello sforzo totale sudore nella fronte con copiscenze dominio l'uno sull'altro in questo panorama è difficilissimo accogliere l'annuncio è difficilissimo accogliere accettare di non essere dio e quindi accettare che dio venga a fare l'impossibile che ancora in fondo pensiamo di poter fare saccaria poi era sacerdote allora con le sue abluzioni con le sue preghiere era il vertice della religione di israele maria era l'ultima delle ultime delle ultime vedete la differenza che c'è in questo come è possibile come è possibile che dio faccia una cosa perché poi nel fondo il superbo ha un corto circuito interno che tutti noi sperimentiamo ed è quello che ci impedisce di accettare la nostra debolezza ci impedisce di accettare di accogliere e anche di amare le nostre imperfezioni ciò che ci rendono creature bisognose di dio e quindi di fronte all'annuncio di dio che viene ad amare questa creatura povera debole fragile che viene a colmarla con il suo amore che viene a fare ciò che per te è impossibile quindi tutto perché dice il signore senza di me non potete fare nulla beh questo suscita un dubbio che nasconde in realtà l'orgoglio e la superbia più grande per questo zaccaria resta muto non può fare nemmeno più il sacerdote non può svolgere nemmeno più la sua funzione religiosa è azzerato è atterrato è nudo perché l'annuncio dell'angelo scopre la realtà di zaccaria e deve passare un tempo di purificazione nel quale accettare chi è come accade a noi di fronte all'annuncio dell'angelo della chiesa della parola la predicazione che viene sempre a denudarci a zittirci a metterci muti a metterci nella realtà e ad aprire un tempo di purificazione di mutismo di umiliazione nel quale accorgerci e accettare la nostra incapacità per poter accogliere completamente l'avvento di dio nella nostra vita la sua opera la sua ricreazione la sua ricostruzione della nostra vita il suo miracolo d'amore dentro di noi per arrivare di fronte alla grotta di betlemme e riconoscere in essa la nostra realtà e riconoscere che dio si è fatto bambino piccolissimo per distruggere il nostro orgoglio la nostra superbia nostra mania di grandezza si è fatto povero per arricchirci si è fatto debole per farci forti si è fatto bambino per farci adulti nella fede allora coraggio scopri la tua totale inadevolezza il tuo essere una creatura povero debole inerme incapace muto che è la tua realtà un muto ha bisogno di tutto ha bisogno di qualcuno che riempia questa sua incapacità di parlare che gli ha la possibilità di esprimersi che gli ha un'identità gli ha una parola Cristo che viene a farsi carne dentro di te l'essere muto il silenzio il tacere è la purificazione è ciò che ci fa simili via maria e ciò che noi possiamo apprendere da maria cioè dalla chiesa dalla nostra comunità cristiana quel com'è possibile piano di stupore virginale di stupore innocente il nostro tacere è accettare la storia nella quale il signore scime accettare le umiliazioni che polverizzano il com'è possibile di zaccaria pieno di dubbi per dire con maria uno stupito com'è possibile che ancora mi ami ma certo a te nulla è impossibile sei mio dio sei mio padre io vivo dell'impossibile tuo amore eccomi sono tuo servo sono tua serva si compie a me secondo la tua parola si incarni in me il tuo amore perché giunga a tutti quelli che mi hai messo accanto amen e grazie don antonello grazie a tutti quanti voi della pagina amici di gesù come bello essere come maria piccoli innocenti puri da poter accogliere qualsiasi notizia che il signore ci dà ci manda perché siamo sicuri che quella notizia quell'evento è buono giusto e santo per la nostra vita per la nostra elezione per la nostra conversione ma a volte tutti nessuno escluso pensiamo che quella evento quel momento sia per il nostro fallimento che sia un castigo perché siamo inquinati dal peccato che ci fa dubitare che dio è padre santa giornata a tutti da emilio grazie a tutti 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 grazie a tutti